proprio sul luogo del chiosco e porco dio testa di cazzo ho visto un salto e si è fermato ma cosa c'è qui? ma cosa a me mi è cotta me? la mia vita? non ho vinto non ho vinto eh vabbè allora i mettono sotto tutti spero ti fulmini